Ciao, sono Max, sono un cantante heavy metal E' una passione che coltivo ormai da... saranno almeno 12 anni Dopo 12 anni di esperienze di gruppi vari sono giunto qua in studio Sono stato contattato per questo progetto del disco e della band da Carlos, il batterista Che è l'amico di vecchia data rispetto agli altri ragazzi che ho conosciuto poi in seguito Mi sono trovato da subito bene con i ragazzi La prima cosa più importante per suonare è l'affiatamento sicuramente Di conseguenza mi sono trovato veramente bene con loro sia dal punto di vista degli scherzi Dei momenti più di relax fino ad arrivare poi a quello che è il lavoro vero e proprio Dove comunque si è creato affiatamento Mi sono buttato un po' in questa avventura ed è effettivamente per me un'avventura Sono arrivato e delle idee musicali ben precise, delle strutture musicali ben precise Erano già state create, erano già praticamente pronte per questo disco Quindi insieme agli altri ci siamo messi un po' faccia a faccia Abbiamo deciso di valutare un po' quelli che dovevano essere i testi e incorporarli all'interno dei pezzi E mi hanno lasciato abbastanza carta bianca Ovviamente si parla di un progetto trash metal Quindi un genere underground sulla scena musicale Nonostante questo io arrivando da un mio stile personale, una mia scuola sicuramente aggressiva Ma anche melodica hanno voluto totalmente vedere come avrei interpretato io i pezzi E soprattutto loro abituati a scriverli e a sentirli un sacco di volte Erano curiosi di sentire come sarebbe stato sentito il pezzo da un orecchio esterno Mi sono sentito molto più a mio agio così rispetto a una situazione dove avrebbero potuto chiedermi di impostare la mia voce Magari in un modo che per me non fosse totalmente naturale Ho potuto gestire bene le cose Ho potuto gestirle bene sempre ovviamente sotto l'attenzione di Giorgio e di Carlos Con cui comunque si discuteva sempre il da farsi Anche proprio frase per frase, quello sicuramente Ogni volta che venivamo in studio lavoravamo almeno 6-8 ore La media era quella Anche perché quando ci siamo organizzati prima ancora di venire qua Proprio su mia richiesta Avevo chiesto ai ragazzi se avessimo potuto lavorare su un brano per volta Non di più Non per altro Ma perché cantare in studio non è mai come cantare dal vivo In più ci tenevo sempre a venire qui In studio Con il pezzo pronto ma veramente con una sicurezza disarmante In modo da poter registrare con sicurezza Che è una delle cose che poi si va a sentire di più quando si ascolta il disco Uno dei pezzi che mi sono divertito più a registrare Anzi ne cito due È Neurotic Per la simpatia del pezzo Proprio perché comunque è un pezzo che è stato ripreso dal mini cd e dvd Che era stato registrato precedentemente dal mio arrivo dagli A. George E devo dire che è diventato un po' un tormentone per noi Di conseguenza è stato veramente simpatico registrarlo Con delle sonorità diverse rispetto a quelle della versione del primo disco E un altro che voglio citare è Kill Your Song Perché è partito come un pezzo di... Non dico di nicchia Però diciamo magari non uno di quelli più in vista In realtà registrandolo ci siamo anche resi conto Che con le parti vocali e con i cori registrati in un certo modo Veniva veramente bene Insomma era proprio una soddisfazione anche riascoltarselo qua in studio Di conseguenza questi forse sono i due più divertenti Ma non gli unici interessanti sicuramente Una cosa che accomuna tutte le varie registrazioni È un po' il metodo che utilizzo io di solito Cioè sembra quasi paradossale Ma la cosa che mi interessa di più È sapere a mena dito quello che fanno i ragazzi che suonano con me Io... Quella è la cosa principale Perché se io so dove posso appoggiarmi So come muovermi poi quando canto Di conseguenza questa è la preparazione principale Stiamo aspettando Io per primo non vedo l'ora di salire sul palco E di presentare comunque questi pezzi Che veramente stiamo facendo con tanta fatica Con tanto impegno qua in studio Di portarli sul palco, di portarli dal vivo Anche perché come ogni gruppo sicuramente una grande soddisfazione È il fatto di poter suonare dal vivo Tenendo conto del fatto che Già è un divertimento, una soddisfazione fare il live In più portando quelli che sono i nostri pezzi La soddisfazione si... Aumenta di smisura sicuramente Quindi non vediamo l'ora di salire sul palco A fare un po' di inferno Noi siamo per voi all'indirizzo www.hgeorge.com E vi aspettiamo dal vivo per fare un po' di casino assieme Detto questo vi ricordo solo che The Alcoolic Trash Metal Kills I want your broken face